Calcio Napoli 24 Con la Georgia ti abbiamo visto anche a destra svariare su tutto il fronte d'attacco potrebbe essere anche quella una soluzione per quest'anno a Napoli? Ti trovi bene in quel ruolo? Ripeto ancora una volta dove serve il calcio sempre gioco lì e faccio sempre massimo per non vedere che sono più brava destra o sinistra quindi faccio massimo giocare in posizione dove sono come una posizione come mia